E' stata un'esperienza molto bella e soprattutto perché io studiando servizi sociali ci sono molte, cioè ti fanno vedere molte esperienze in campo universitario. Ho trovato scuole, università che possono aiutarmi anche, ho già dato i recapiti miei per poter comunque approfondire la conoscenza. Invito chiunque a venire perché facendo anche io servizi sociali ci sono tanti campi che puoi vedere e magari hai il pensiero anche di cambiare campo. E' stata una bella esperienza perché comunque abbiamo visto i vari ambiti dell'università, visto che noi quest'anno facciamo la maturità. Secondo me è una cosa molto interessante anche per vedere la realtà lavorativa e anche i workshop che ci sono all'interno dei vari settori dove uno è indirizzato a essere la sua aspirazione futura lavorativa. Tutti i stand sono stati molto interessanti, ho scoperto che esistono delle università di cui non avevo mai sentito parlare e mi sono divertita molto e mi sono aperti tanti i mondi. Io ho simulato di passare in mezzo a uno stretto e no è stato bello, è stato interessante, ci vuole molta pazienza. Bello! Mi piace, è un modo per pensare al futuro.